Sabato 6 e domenica 7 settembre, una dozzina di genitori ed alcuni collaboratori scolastici dell'Istituto Comprensivo Lucatelli di Tolentino hanno sistemato gli ambienti del plesso scolastico King, ripristinando le tinteggiature dell'ingresso e dei corridoi del piano terreno e del primo piano. Sono state anche tinteggiate otto aule, arricchendole di pareti colorate e decorate con stencil di varia natura. Il presidente del Consiglio d'Istituto Gian Nicola Ferranti, dopo aver ricordato che la fase operativa del progetto è stata possibile grazie al sostegno di due ditte, la prima di Caldarola, che ha fornito gratuitamente le tinte e le vernici, l'altra di Tolentino, che ha fornito anch'essa gratuitamente le attrezzature, tra cui scale e tra battelli, ha ringraziato tutti i presenti. Hanno portato il loro saluto ai genitori in Bianchini anche la nuova dirigente scolastica Mara Amico e l'assessore all'istruzione del Comune di Tolentino, Fausto Pezzanesi, che hanno ringraziato i presenti per l'impegno e l'ottima riuscita dell'iniziativa.